Ciao ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video, questo sarà un video giveaway e voglio parlarvi di un'azienda che secondo me è fantastica, è della Sofì, fa dei gioielli che sono simili a Pandora e tutti di voi credo che la conoscerete. Questa azienda ho ordinato delle cose presso il loro sito e vi faccio vedere ora come mi è arrivato a casa il pacco, dopo di che vi faccio vedere il bracciale che ho scelto come giveaway per la vincitrice. Allora intanto il packaging vi assicuro che è fantastico, vi danno questo sacchettino, quindi diciamo che se uno ordina presso questo sito può direttamente già fare un regalo perché c'è tutto dentro per regalarlo insomma, c'è questo sacchettino e praticamente la scatolina che è molto carina con questo fiocchettino e scritto sotto Sofì. Allora, ed è praticamente così dentro, quindi in questo modo. Secondo me è molto fine, molto carina. Vi faccio vedere i braccialetti che ho scelto io, che sono? Allora, questo qui con questo farfallina qui nera, sono molto fini, la cosa che mi piace di questo sito è che fa questi bracciali di tutto praticamente, anelli, collane, ma tutto molto fine, quindi ad esempio a me non piacciono tipo le cose pacchiane, queste cose qua e secondo me sono perfetti. In più, mi piace tantissimo il fatto, ora non lo so ad allacciare, comunque vi faccio vedere che è rigido qua, quindi praticamente non vi si spossa praticamente quando muovete il braccio, no? Non c'è la possibilità ad esempio che questo qua vada dietro, perché rimane immobile e in più, vi faccio vedere, potete scegliere voi dove fissarlo, dove chiuderlo. Quindi questo qua è il primo. che ho ordinato io. Dopodiché ho scelto questo qua che è il mio preferito, io lo adoro e diciamo che è il cuore dell'oceano, no? Perché ha questo ciondolino blu con questi brillantini tutti intorno e anche questo è molto fine, questo azzurro acqua è fantastico e diciamo che il bracciale intorno è uguale praticamente, cambia solamente il cuoricino. questo qui che invece ha una struttura diversa, nel senso che è semirigido perché poi si chiude qua sotto e mentre qua il bracciale è praticamente rigido e ha queste due perline qua davanti, anche questo è molto carino. E come ultimo che ho scelto presso sempre il loro sito è questo qui che ha, l'avevo lasciato dentro l'altra cittina perché ognuno... questo qua è questo qui con questi due coricini attaccati ed è sull'azzurrino e questo invece è morbido però essendo che si può chiudere anche stretto quindi sta comunque così. Io ho scelto questo qua come giveaway per voi perché secondo me è il più fine e soprattutto l'ho scelto per un motivo. Allora devo dire che a me piaceva tantissimo questo qua con il cuoricino, questo qua che vi ho fatto vedere prima. Vedete? Così. soltanto che ha un piccolo difetto, tra virgolette, nel senso, vedete il cuoricino è molto molto carino. L'unica cosa è che non sapendo chi vincerà il giveaway, quindi non sapendo se capiterà una persona che comunque ha il polso un po' più piccolo, il polso un po' più grosso, questo io ho il polsino piccolo. Questo a me, nel senso, è giusto, è perfetto dietro. Non vorrei che magari capitasse a una ragazza che ha il polso magari molto più grosso e quindi non si chiudesse. Onde evitare questo, ho voluto scegliere questo qua che diciamo è l'unico che è praticamente morbido quindi lo potete decidere voi dove chiuderlo e comunque è molto carino, vedete? Questi due cuoricini sono bellissimi, mi sa. Vi ho fatto vedere quello che ho ordinato presso questo sito. Adesso vi parlo un po' del giveaway. Allora, non so esattamente quando si caricherà questo video, comunque poi nell'info box vi lascio tutte le informazioni su quando si apre e su quando si chiude il giveaway. Questo giveaway durerà una settimana e si concluderà, metterò qui sotto poi l'orario. Ecco, una settimana giusta dal momento in cui si caricherà il video. Quindi io vi faccio vedere adesso questo qua. Cosa vincerà chi vincerà il giveaway? Vincerà questo qua che vi ho fatto vedere prima, offerto quindi dall'azienda della Sophie. E questo diciamo che è il regalo piccolo secondo me, perché il regalo più grande è un altro. E cioè che il vincitore avrà a disposizione 60 sterline da utilizzare presso il loro sito. quindi avrà a disposizione, diciamo, 60 sterline per usare da comprare quello che vuole, ecco, sul loro sito della Sophie. In più, altra cosa, chiunque di voi voglia acquistare presso il loro sito, di cui io vi lascio sotto il link del loro sito, se inserirà il codice ILENIA8 quando andate sul carrello dopo aver effettuato quello che dovete comprare, inserite tutto nel carrello. E se inserite il codice ILENIA8, vi lascio anche il nome qui sotto, comunque tutto minuscolo, otterrete l'8% di sconto sul prezzo finale dell'importo che dovete acquistare. Quindi se qualcuno di voi non vince il giveaway, ma vuole comunque comprare su questo sito, che io ve lo consiglio, perché veramente sono cose fantastiche e non diventano nere, perché comunque non è bigiotteria, diciamo. Io, tra l'altro, sono allergica, ad esempio, al nichel, a questi prodotti qua, e con questo ho provato a tenere su questo qui, questo qui nero con la farfallina, e non mi fa irritazione, per cui effettivamente vi assicuro che non contiene nichel. Quindi stavo dicendo che se uno vuole comprare in ogni caso su questo sito, otterrete l'8% di sconto scrivendo nel coupon ILENIA8. E come partecipare al giveaway? Le solite regole, quindi, essere iscritta al mio canale, iscriversi al canale della Sofì, che vi lascerò qui sotto, e lasciare un commento. Ovviamente i commenti con lettere, numeri, cose così, non li terrò in considerazione. Potete lasciare quanti commenti volete, tutti i commenti parteciperanno all'estrazione che verrà effettuata tra una settimana da me, sul sito random. Dopodiché questa persona, la vincitrice, dovrà contattarmi, poi farò un video con il vincitore, dovrà contattarmi e io vi darò l'email dell'azienda per mettervi d'accordo direttamente voi con il sito di Sofì. E nulla, io vi auguro in bocca al lupo a tutte le partecipanti e io ve lo consiglio perché ci sono magari, mi sono capitate tante volte di acquistare delle cose online e poi non essere contentissima di quello che è arrivato. Vi posso assicurare che è un'azienda molto seria, anche come per metterci d'accordo, come effettuare, insomma, per ricevere l'ordine e tutto quanto, mi sono stati vicino in tutto. E quindi è un'azienda molto seria. E niente, mi piacciono un sacco, soprattutto questo qua col cuore, secondo me è veramente il più bello, cioè è veramente fantastico. Io ve lo faccio rivedere nel caso volete comprare questo sul sito. E c'è così anche la collana, tra l'altro, qui non ho acquistato, ma c'è anche la collana, così è molto bella. E quindi niente, io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video e partecipate. Ciao ragazze!